Dipendenti morti all'archivio di Stato di Arezzo, 11 rinviati a giudizio per omicidio colposo plurimo. Il processo per la morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, i due dipendenti dell'archivio di Stato di Arezzo che morirono per le esalazioni di Gas Argon, inizierà il 7 luglio in tribunale ad Arezzo. La decisione è stata presa dal GUP Claudio Lara questa mattina al termine dell'udienza preliminare. Due le posizioni archiviate per le quali il giudice ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM Laura Taddei, non ritenendovi fossero profili di responsabilità. Andranno a processo di fronte al giudice Giorgio Margheri. La tragedia accade il 20 settembre del 2018. Filippo Bagni e Piero Bruni accorsero per verificare come mai stesse suonando l'allarme antincendio e secondo i consulenti dell'accusa in seguito ad una serie concatenata di eventi legati al malfunzionamento dello stesso impianto furono vittime di un'uscita di Gas Argon che tolse loro l'ossigeno facendoli morire in pochi minuti.